Come da tradizione, si incomincia con la ghiandola dell'epra. Sono guardia carceraria a circondariale. Tu sai dov'è circondariale? Sono vent'anni che sono in carcero e non mi hai fatto male a un cristiano. Ti pare giusto? No, no, assolutamente no. Dai, ma prima o poi succederà. Eh, se succederà. Saulo. Sì. 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 Paragulo. Te li hai lasciati per il brodo? No. Ti mangi tutto. No, no. Se lo facevi in Natale, se lo facevi qua? Eh, a casa, davanti alla TV. In comunità. Scusami, non ho capito in che senso. No, no, perdonami tu, sono sensibile. Tanti auguri buon Natale, dico che. Anche a te. Scusami, non ho capito in che senso.